ciao sono il dottor max della pharma max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata agli integratori alimentari ti leggerò i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace ai video che ti interessano e commentare con le tue esperienze personali in base ai farmaci integratori o principi attivi da te assunti in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie ai suggerimenti condivisi in questo video esaminiamo l'integratore alimentare abcgo la umana benessere umana italia spa ultimo aggiornamento 7 aprile 2022 a cosa serve confezioni informazioni commerciali indicazioni a cosa serve abcgo la umana benessere è un integratore appartenente alla categoria degli integratori per il benessere della gola è commercializzato in italia dall'azienda umana italia spa informazioni commerciali titolare umana italia spa concessionario umana italia spa categoria di appartenenza integratori per il benessere della gola forma farmaceutica spray confezioni abcgo la umana benessere spray orale gola 15 ml indicazioni integratore a base di propoli colloidale zinco gluconato estratto di edera e di eucalipto in flacone con nebulizzatore è un valido ausilio nei casi di gola irritata e di tosse secca e stizzosa ottimo sapore non contiene gas utilizzabile dal dodicesimo mese rivolgersi al proprio medico in caso di persistenza dei sintomi fonte codifa l'informatore farmaceutico per avere accesso alla versione più aggiornata si consiglia l'accesso al sito web della codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero che la farmamax ti sia stata utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo integratore alimentare esaminato